L'emozione si fa palpabile nell'aria mentre il noto ballerino Vittorio Ardovino, originario di Atena Lucana, si prepara per un nuovo capitolo indimenticabile della sua straordinaria carriera. Sarà di nuovo parte dei live di A Tutto Cuore, l'opera show di Claudio Baglioni che si terrà all'Arena di Verona dal 19 al 22 settembre e poi ancora il 26, 27 e 28 settembre prossimi. Il cantautore italiano ha scelto di riportare Vittorio nel suo cast per la sua inconfondibile bravura e professionalità. Vittorio è un ballerino eclettico che abbraccia i diversi stili di danza, dalla moderna all'hip hop e al contemporaneo. La sua passione per il ballo è nata quasi per caso, ma è chiaro che risieda nel suo cuore da sempre. Questo giovane professionista che ha catturato l'attenzione durante la sua partecipazione ad Amici 17, si è innamorato del mondo della danza dopo aver visto il film Street Dance Fighter. Da carciatore a ballerino, Vittorio ha scoperto la sua vera vocazione e non ha mai guardato indietro. Nato nel 1999, Ardovino ha già lasciato il segno nel mondo della danza, collaborando con prestigiosi ballerini e partecipando a progetti di successo come Capitani Coraggiosi, insieme a Gianni Morandi e Claudio Baglioni e a Music, il programma di Paolo Bonolis. La sua straordinaria determinazione e talento sono stati riconosciuti da figure autorevoli nel settore sin dall'inizio. La sua storia è un inno alla forza della passione e al potere trasformativo dell'arte, che ha portato un giovane talento da un piccolo paesino dell'Italia meridionale a condividere il palco con professionisti del settore e giganti della musica come Claudio Baglioni. Non è una nuova esperienza perché già una parte della tournée è conclusa. È stata finora una bella tournée con le coreografie di Giuliano Preparini, la sua direzione artistica, la sua regia. Claudio Baglioni è uno show, è stato anche su Rai 1 a tutto cuore, il programma a tutto cuore. È una bella esperienza e continueremo il 13 settembre, riprendiamo le prove, per poi fare dieci date all'Arena di Verona. Vittorio, un consiglio che daresti ai giovani che vogliono intraprendere la tua stessa carriera? Un consiglio sicuramente di essere curiosi, di non fermarsi nella propria comfort zone, quindi di uscire un po' dalle sicurezze che si hanno per intraprendere anche nuovi stili, così da ampliare il proprio bagaglio. Però la curiosità è la cosa secondo me più importante. Che cosa è rimasto di quel vittorio bambino che ha iniziato con la scuola di danza, lo danza di Lucia Senese? È rimasto sicuramente quel bambino che ha tanta voglia di imparare, sempre, e tanta voglia di essere appunto curioso e intraprendere sempre nuove esperienze, quindi fare nuove conoscenze. Poi tutti i lavori che fai ti danno un bagaglio diverso, sia a livello di stile, sia a livello di esperienza. Ogni coreografo ti dà la sua visione.